ok andiamo a fare due cappucci da portare via allora andiamo innanzitutto a fare i nostri espressi rimuovo il caffè in eccesso quindi andiamo a fare due cappucci con caffè doppio primo caffè andiamo a fare il secondo secondo ok andiamo in modalità steam quindi abbiamo fatto i nostri due espressi doppi e mettiamo qua un po' Ok, inizio a preparare il latte Ok, appena la spia si spegne vuol dire che siamo arrivati in temperatura Quindi andiamo a spurgare E andiamo a preparare i nostri latte Con la mano andiamo a sentire la temperatura del latte Primo Vediamo la differenza di volume Tra uno e l'altro Primo Quindi abbiamo montato il nostro latte Usciamo dalla modalità steam Vediamo bene la nostra lancia Ok Ok, quindi abbiamo i nostri due espressi doppi Abbiamo le nostre lattiere Uno Ok, bene Grazie.